ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi ed eccoci qua tutti assieme beatamente contenti per vedere qualche altro orologino simpaticamente presente in questi video e i video sono quelli che mi mandate voi le vostre collezioni di orologi che poi rappresentano un po che il vostro percorso all'interno di questo simpatico hobby no quindi ci piace controllare guardare vedere cosa avete nel vostro palmarès per poi magari prendere spunto no e poi diciamo anche la verità è proprio un sistema per permettere alle persone di condividere la propria passione perché è bello è bello è bello avere gli orologi io ho tanti orologi che il mio il mio obiettivo è quello di riempire la piscina e poi fare come paperonte e paperoni che si tuffava nei dobloni io mi voglio tuffare in una piscina piena di orologi questo è il mio obiettivo però è anche bello poi a un certo punto oltre che tenerli per se stessi no anche farli vedere agli altri no condividere dire guarda io questo qua l'ho preso perché questo qua mi piace e questo qua è fatto così perché e questo qua è fatto cosa ok si può fare dal vivo con gli amici con le persone con la community che hai attorno a te no io ce li ho quei 4 5 6 amici con i quali parlare di orologi però poi il grosso è tutto sparso siamo una nicchia no siamo una nicchia quindi è impossibile andare in piazza e parlare di questo argomento occorre utilizzare gli strumenti online io ve lo metto a disposizione il mio strumento online è per condividere la vostra passione con gli altri così vi sfogate anche non date retta a quello che dico io perché io dico quello che penso senza filtri quindi magari posso anche sembrare un pochino cinico arrogante e magari cattivo però io dico quello che penso non vi dovete offendere siamo tutti tutti amici tutti amici siamo adesso vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo quartier santos sentite come ho pronunciato quartier orologio stupendamente con il quadrante con i numeri numeri romani che solitamente non mi piacciono ma sul santos o sul tank ad esempio ci devono essere per esempio sul reverso preferisco gli indici normali o i numerini arabi insomma sul certi su determinati ecco su quelli di forma rettangolare quadrata gli approvo i numeri i numeri romani sugli altri tipi di orologio un po me quelli tondi mi sanno tanto di orologio del campanile della chiesa di paese va bene comunque detto questo mando discorsi inutili e diamo una sguardatella ai vostri video iniziamo subito con il primo vai ciao davide ciao saluto a te e tutti gli amici del canale ciao oggi ti mostro la mia piccola collezione premetto che sto collezionando orologi da sette otto mesi a questa parte però e condivido la mia collezione anche con mio fratello parto subito e poi cercherò di comunque di metterti tutti i calibri eccetera sempre all'interno del video voglio descriverti in qualche modo parto da quelli che io definisco poca spesa tanta resa un citizen pro master full loom che è il top da portare soprattutto in estate al mare con il suo quadrante luminoso il suo cinturino in gomma in cauccio molto comodo e appunto da portare al mare è favoloso favoloso passando avanti andiamo a questo seico 5 sport tutto in acciaio col suo bracciale fondello a vista nello spettacolo a volte mi fermo a vedere questo movimento e rimango davvero assopito a volte assopito vedere questo quadrante molto bene assopito ma come si fa quando uno vuole utilizzare dei termini un pochino forbiti e non ce n'è la competenza viene fuori che rimane assopito ora io ti voglio bene sto scherzando ma guardare il 4r 36 e rimane e rimanere allibiti no come è scritto oppure stupiti basiti guarda quanti termini ci sono estasiati è un po è un po troppo 4r 36 dai su di cosa stiamo parlando va bene essere e enfatizzare la passione ma insomma fly down no o come si suol dire vola basso la colorazione pepsi il suo quadrante con questa colorazione che vira su colori sull'azzurro davvero molto 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 bene quanti molto quanti molto quasi andando avanti andiamo sempre in casa citizen con il suo quadrante verde bello ovviamente la data a ore 3 suo bracciale molto carino e comodo anche da tenere al polto certo passiamo poi al bulova bulova con questa colorazione non proprio tiffany ma un qualcosa che si avvicina molto a questa colorazione anche esso braccialato un tiffany anacquato comodo anche lui ha il fondello a vista è comodo anche da portare tutti i giorni tutti i giorni è per forza andando avanti ti parli belli orologini dai belli orologini finora un 6 ce l'hai un altro seico seico presaggio con un suo dial davvero spettacolare bello bello con questa forma questo gioco di luci con il suo quadrante davvero bello a raggi di sole anche lui braccialato come gli altri che ti stavo mostrando prima anche lui ha il suo fondello a vista e quindi permette appunto di vedere il movimento rimani assopito andando avanti ti faccio vedere un piso gentleman con questo dial blu molto simile anche scusa mi ha scritto eta 28 24 non è letta 28 24 il power matico 80 va bene l'architettura è quella di base ma insomma c'è scritto che sul quadrante per lo meno scrivi quello che c'è scritto sul quadrante va bene a livello di colorazione ovviamente al seico che ti ho mostrato prima 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 anche lui braccialato con il suo movimento a vista come dire molto molto bello bravo a seguire ti mostro una una delle punte di diamante della collezione un rolex dei just so che i numeri romani non mi piacciono però per me è stato un colpo di fulmie su questo qua non è che non mi piacciono i numeri romani cioè ora senti io vi dico questa roba qua poi magari fra dieci anni mi vedete con con questo windbladon qua al polso cioè non si sa male la vita come lo yacht master non mi piaceva dopo quattro anni mi è piaciuto però quell'indice da solo lì ad ore nove messo così come fosse una particella di acqua di sodio no di particella di sodio nell'acqua insomma quella roba lì è brutto perché poi spicca tanto quel bianco lì mentre i numeri i numeri romani sono in verde nascosti col grigio verde grigio mamma mia che coppia metto vabbè a me non mi piace per ora non mi piace ragazzi l'ho visto in concessionario ho detto deve essere mio fortunatamente sono riuscito ad averlo ce l'ho da poco in collezione da circa un mese con il bracciale giubileo bello davvero complimenti poi passo ai vintage sono orologi di famiglia questo Lorenz apparteneva a mio nonno e parliamo di primi anni 70 è stato lasciato così come era all'epoca infatti si vedono i segni del tempo anche il cinturino le chiusure insomma tutto quanto coevo sono proprio i suoi pezzi dell'epoca non è stato mai sostituito nulla è un placato oro infatti si vede che il tempo non l'ha risparmiato sì va bene non è stato sostituito nulla ma il cinturino lì non era il suo perché era fuori misura cioè era proprio più stretto delle ansie quindi non è quello originale coevo nel senso che il tuo nonno ce l'avrà messo l'avrà preso così a caso mettici un po' un cinturino qua che si è rotto ci ha messo un cinturino a caso e via e per concludere un orologio di mamma fine anni 70 un full gold sempre Lorenz movimento automatico è carino indossava mamma ai suoi tempi i suoi giorni così adesso è un lascito che mi ha dato da tenere così in collezione io con questo ho concluso ti ringrazio per lo spazio dedicato mando un saluto a te e tutti gli iscritti del canale Siete fuori del brocco voi altri va bene dai simpatica simpatica collezione una cosa che cominciava a darmi fastidio le vocali allungate oh capito cioè quando dovete prendere tempo piuttosto state zitti fate una pausa non allungate le vocali così a giandui otto oh a collezione di Don 6 Don 6 proprio striminzito tutti erogini bellini bellini per l'amore del cielo entry level Tsuyosa Promaster Sego 5 va benissimo stai andando alla grande ho dimenticato il The Just Wimbledon va bene dai ti do un 6 e mezzo ti do un 6 e mezzo 6 e mezzo 6 e mezzo che abbiamo il voto mezzo punto più per Wimbledon lì che non è che sia un gran che per i miei gusti poi contento te e contenti tutti poi il resto lì i due vintagini quello della mamma tutto d'oro il suo valore è quello affettivo e quello dell'oro perché come orologio calibro non sappiamo nemmeno che calibro ha comunque poi avevi sbagliato anche un paio di calibri quello del Rolex c'è scritto Rolex di manifattura 32-35 cioè almeno questi calibri qua basilari 32-35 31-35 32-30 quelle basi di Rolex impariamoli insomma un po' di nozioni anche da sfoggiare poi con gli amici no ma questo c'è il calibro 32-35 e loro rimangono con la mascella abbassata servono anche queste cose anche per acchiappare qualche donna fai vedere che sai che sai di tutto degli orologi e loro si sciolgono prossimo buonasera Davide sera a tutti gli amici del canale sono Luciano au e vivo a Civitavecchia e se sente sono romano ma vivo a Civitavecchia ma se sente a differenza degli altri che mandano i video degli orologi io ti mando questo video perché vorrei da te una risposta riguardo a cosa devo fare come muovermi praticamente io sono sempre a cerca di orologi quelli che mi piacciono e cercare di prenderli a delle offerte laddove mi fanno un'offerta che io penso sia buona mi prendo l'orologio bravo il mio ultimo orologio che ho preso è questo qua oh bravo tu lo conosci bene perché l'hai presentato giorni fa certo il nuovo powermatic 80 300 metri da 40 mm mi piaceva sempre questa colorazione ero in cerca sempre di questa colorazione e diciamo che a un negozio vicino vicino Civitavecchia in un'altra zona c'era scritto fuori sconti su tutti gli orologi c'era questo qua in vetrina e ho detto vabbè fai mi entrare e vado a chiedere di questo orologio il prezzo il prezzo lo conosciamo tutti è 795 euro si me l'hanno offerto a 690 euro io non so se poi in altri negozi facevano questa scontistica ma siccome allora ma ragazzi ma allora siete proprio dei duri 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 quando io vi dico Pasquale Domenici di Viareggio che è parte dell'ufficiale del canale e che offre un trattamento di favore a voi che state guardando significa che quelle 795 695 probabilmente no ma a buon intenditore poche parole però voi siete un po' duri e preferite spendere più soldi di quelli che dovete spendere bravi andate a spendere di più come lì mi ha fatto questa offerta era l'ultimo orologio di questa colorazione e me lo sono preso un bello orologio non c'è di non c'è di che non c'è di che prego comunque per il suo prezzo ci sta come orologio sì anche se devo dire che è un po' leggerino io ho notato una cosa che adesso ti farò vedere dai praticamente la ghiera girevole quella unidirezionale se tu guardi bene ad ore 9 è fuori asse e anche leggermente ma si percepisce pochissimo anche l'indicatore quello fatto a freccia sulle ore 12 è lievemente quello fuori asse ma quello che si vede maggiormente fuori dall'asse è quello a ore 9 ora io ho detto saranno i miei occhi forse non non vedo bene per levarmi questa curiosità io sono andato a un rivenditore qua su Cittavecchia che vende anche lui i tessut e ne aveva esposti due in vetrina di colorazioni diverse di cui una era questa qui verde anche quello lì che aveva questo negoziante ad ore 9 è fuori asse mentre quell'altra colorazione che adesso non mi ricordo che colorazione era era perfetto a questo punto io sono andato a verificare le immagini sul sito di su per vedere lì se si notava qualche cosa anche sulle immagini sul sito dei dati su ho notato che questo orologio alle ore 9 è fuori asse a differenza delle altre colorazioni ora non so io il perché se è un caso che è capitato su questa colorazione una partita di ghiere stampate male fatto sta che su questi qui verdi c'è questa differenza pare blu a me ancora per essere più certo di quello che io ti sto dicendo sono andato a vedere sul sito di Pasquale Domenici che è il tuo amico carissimo dove vendono degli orologi certo e lì anche lì ho notato che magari saranno le stesse foto che stanno sul sito da adesso non lo so come vengono caricate queste immagini anche lì ho notato che quello verde la ghiera è verde ha la gradazione sbagliata errata fuori asse a ore 9 adesso io volevo sapere se riportarlo indietro e fargli presente questa cosa oppure se sono i miei occhi che vedono questa cosa non lo so ma a me non mi sembra perché se tu lo guardi bene noterai che ad ore 9 non è perfettamente in linea con la ghiera mi aspetto Davide una domanda una risposta scusami da parte tua per capire il da farsi se realmente conviene riportarlo in assistenza per questa ghiera che è così ti ringrazio spero che pubblichi questo video e che mi darai delle risposte esaudire esaudire ci sentiamo alla prossima e spero che al prossimo video di presentarti la mia piccola e modesta collezione bravo grazie grazie un saluto a tutti love 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 ce l'abbiamo fatta a finire non lo so ragazzi non lo so allora io a vederlo così cioè andrebbe visto al vivo te sei sicuro ora però mi dici che il quadrante verde me l'hai ripetuto cinque volte il quadrante me ne par blu poi mi vengono i dubbi anche sulla tua vista no scherzo non lo so anche a me mi sembrava fuori no al nove però non vorrei che fosse l'errore di parallasse della profondità la curvatura del vetro poi ti dici che il dodici è un pochino probabilmente una mezza tacca sul triangolino magari si adrizza un pochino non lo so non so nemmeno se fa parte della tolleranza perché c'è il rischio che te lo porti indietro e ti dico no ma come avviene anche con coiseico che a volte sono un pochino fuori centro e no ma la nostra tolleranza è quella lì secondo noi è in tolleranza e te ti attacchi al bidet l'unica cosa che si può fare quando uno va ad acquistare un orologio e ci vuole sangue freddo perché neppure io riesco a farlo controllare tutte le cose controllare tutte le cose se la ghiera è dritta controlli se è dritta lo controlli ti porti la lente quello che vuoi controlli controlli che la carica manuale funziona controlli che la data scatta giusta mezzanotte controlli tutta una serie di cose che non faccio neppure io non sono rimasto tra virgolette gabbato il mese scorso quando ho preso l'onjin vintage sulla bancarella in un mercatino sì perché non ho controllato la carica manuale quando sono arrivato a casa la faccio per caricarlo manualmente ed era anch'io dato sono cose da fare lì per lì che vanno fatte dei controlli che poi non ci riesce nessuno cioè anche quando ho cambiato macchina mi sono detto vado a vedere quella usata mi sono preparato un foglio con tutte le cose da controllare aprire il cofono guardare poi non ho controllato niente perché si è preso dall'emozione sei lì fai i berighi guardi ah sì sì ora mi ricordi tirare fuori il foglio niente guardate dovevi controllarlo prima detto questo cosa puoi fare secondo me puoi provare a contattare l'assistenza Tissu direttamente dal sito web loro o telefonicamente senza passare dal negoziante perché tanto il negoziante poi si rivolge a Tissu quindi contattare loro esporgli il problema e vedere cosa cosa succede è capace anche che ti vengono a ritirare l'orologio a casa ti cambiano la ghiera e te la riportano però sai come ogni volta che fai fare un intervento che ci fai mettere le mani sopra e non è più come prima l'orologio no non sto parlando di Tissu ma anche di altri marchi succede che uno lo manda in assistenza l'orologio poi magari torna con più difetti di prima o graffiato succede può succedere perché siamo tutti esseri umani quindi ogni volta che ti fai un intervento è un rischio in più che qualcosa accada l'ultima ipotesi è quello di abituarti e tenerlo così cioè puoi anche avere questa tolleranza questa pazienza perché sinceramente ci sono cose che ci danno fastidio lì per lì o un sassolino che colpisce il vetro della macchina e ti fa una scalfitura micro che lì per lì ti prende il coso da dire mo cambio il vetro cambio la macchina cambio tutto poi dopo due giorni dici ma non si vede nemmeno quasi o un graffietto sulla macchina o un graffietto sulla cassa quindi sono quelle cose che magari col tempo possono anche essere messe da parte e diventare una caratteristica dell'orologio te la vendo te la vendo anche così spero di aver esaurito i tuoi dubbi prossimo video ciao davide mi chiamo andrea ho 19 anni e sono voluto al canale da ormai forse più di tre anni quindi ormai tanto tempo bravo bravo e volevo appunto ringraziarti per tutti i video che fai tutte le nozioni che ci importi appunto qua su youtube grazie e niente bando alle ciance direi incominciare a vedere gli orologi non rubiamo tempo il primo orologio che ti mostro è l'orologio che ho comprato con il mio primo stipendio ovvero l'Hamilton Mark da 38 mm bravo 38 perché il 42 secondo me è veramente troppo grande almeno per il mio polso è un orologio a cui sono particolarmente legato perché mi diciamo mi ricorda se vogliamo l'ingresso nell'età adulta se vogliamo vederla così comunque un ottimo orologio ambivalente quindi sia sportivo sia comunque se si vuole abbastanza elegante peccato per il vetro che non ha l'antiriflesso ma comunque tant'è è un problema di tutti gli Hamilton su questa fascia di prezzo lo leggi successivamente vi faccio vedere questo VeriWatch Octopus Octopus un diver medicale appunto con scala pulsometrica nel rio come puoi vedere su base 30 con un ottimo cinturino in gomma di Sicalt eh si sono fatti bene veramente un ottimo orologio con movimento a sellita che ho portato molto volentieri al mare quest'estate essendo molto compatto a me piacciono gli orologi compatti una menzione d'onore direi che va assolutamente al fondello questo orologio perché secondo me è bellissimo da vedere è veramente un lavoro ottimo da parte di questa casa si te lo appoggio successivamente ti faccio vedere questo orologio che ho comprato ad un prezzo veramente pazzesco secondo me dato che si prepara circa di metà del prezzo di listino e l'ho comprato praticamente nuovo ovvero questo Yema Superman 500 anche questo un ottimo orologio un ottimo diver l'unica cosa che mi spiace è il fatto che il sistema di blocco della ghiera secondo me è veramente scomodo per quanto sia rappresentativo del modello ma si io ti capisco loro hanno voluto fare qualcosa di folcloristico diciamo qualcosa di originale qualcosa che viene dal loro passato a discapito della funzionalità ad un certo punto perché diciamo è un sistema un pochino obsoleto però vuole replicare appunto quel sistema lì a qualcuno gli si impigliava anche nel maglione quel fermaglietto lì poi negli ultimi modelli l'hanno anche migliorato però è una sua caratteristica lo si prende anche per questo per avere qualcosa anche qua da far vedere gli amici guarda un po' qua come si blocca si gira poi si riblocca ogni volta che devi girare la ghiera devi svitare la corona è una scocciatura però nulla toglie all'orologio in sé che è bello anzi la sua particolarità è particolare da vedere eccetera è veramente scomodo cioè non la puoi praticamente usare sta ghiera a meno che non sei chiuso in casa io non mi sono fidato ad usarla al mare mettiamola così è vero nonostante questo ottimo vetro ottimo movimento di manufattura che non mi ha mai dato problemi al contrario di come dicono alcuni bracciale fatto veramente bene peccato soltanto per la clasp perché non è niente di che è abbastanza leggerino ora te hai fatto un'osservazione giustissima non mi sono fidato di utilizzarla al mare perché non ci avevo pensato però hai ragione ogni volta che ti sviti avviti la corona è sempre un motivo in più di rischio per dimenticarsi la chiusa male per dimenticarsi l'aperta per creare un danno anche al filetto alla filettatura quindi non ti sei fidato di utilizzarla male magari ci va la sabbia hai ragione hai ragione un conto è chiudere la corona quando sei a casa in tranquillità la chiudi ok è chiusa adesso posso andare se poi devo riaprirla risvitarla richiuderla più volte per regolare ogni volta può essere fonte di guai quindi questo è un piccolo punto debole di questo orologio è vero un'altra ghiera qualsiasi ti vai a armare la giri o il tempo tra un bagno e l'altro track fai così o quello lì o un tempo no non la sto a svitare mi ci va la sabbia dentro riavvito si ingrippa è giusto poi faccio vedere qualcosa che forse sul tuo canale non si è mai visto almeno io non penso di averlo mai visto ovvero un marchio rilanciato nel 2019 ovvero Niva da Granken ma come non si è visto questo è il modello super antarctic con il quadrante 369 in colorazione tropic anche se concordo che sia un parolone chiamarlo tropic e direi che semplicemente è marrone e basta non sono d'accordo con le persone che dicono che è una brutta copia dell'explorer in quanto si sfere e indici lo ricordano ma tutto il resto è completamente diverso a partire dal bracciale dalla forma della cassa dalla corona quindi non mi trovo così d'accordo con questa cosa corona vite che come sempre è una garanzia visto come dice anche te può capitare di dover bagnare l'orologio mi è capitato quest'estate e dopo una serata di fare un bagno in piscina con questo e non ho avuto nessun tipo di problema essendo parte della nuova produzione di Nevada ha una claspia migliorata rispetto a quelle vecchie che erano il lamirino bello bello una bella claspia spessa fatta molto bene bellissimo anche il fondello dedicato appunto alla missione Bilo Zero negli anni 50 se non erro che è stata proprio accompagnata da questo modello come orologio assegnato bello bello spedire eccetera però comunque sia sono orologi che valgono la pena di essere comprati perché sono veramente belli anche il vetro ha un ottimo antiriflesso leggermente bombato zaffero movimento soprod anche abbastanza preciso devo dire ecco vedi la differenza tra un marchio e l'altro anche nella scelta di cosa comprare può essere anche quella nessuno ci pensa nessuno ci ragiona c'è la il fatto che ci sia un approvvigionamento insomma piuttosto costante nei negozi e poi va a indicare anche magari come spia il fatto dell'assistenza post vendita va tutto bene finché l'orologio va bene va tutto bene ma nel momento in cui poi ci sarà un piccolo problema di qualsiasi tipo che bisogna ricorrere all'assistenza ci sono dei marchi che sono rodati che sono decenni che sono lì che per loro è un gioco da ragazzi ritirarti l'orologio anche a casa e riportartelo anche a casa succede anche questo per altri magari diventa un po' più difficile l'assistenza post vendita è abbastanza importante a questo a questo proposito anche i brand emergenti o i cosiddetti micro brand ad esempio faticano ad avere un approvvigionamento costante nei negozi uno dice uno dice fare il salto al micro brand fa il salto in negozio viene distribuito fisicamente nei negozi ok oltre ad aumentare magari leggermente il prezzo perché deve provvedere poi a dar da mangiare tutta una certa filiera diventa anche difficile l'approvvigionamento le persone ordinano quell'orologio e non è disponibile ci vuole del tempo prima che lo producono di nuovo sono anche queste piccole incongruenze che poi vanno a far sì che si scelga un marchio piuttosto che un altro adesso passiamo forse al mio orologio preferito che ho in collezione ovvero questo Nivala Granken però CASD questa volta quindi cronomassia vento sea diver un vero orologio tool watch per come lo intendo io quindi con tante funzioni cronografo subcontratore con i primi 5 minuti evidenziati apposta per le regate scala tachimetrica scusatemi nonostante sia un po' nascosta dalla bombatura di questo bellissimo vetro la rende un po' difficile da reggere però comunque sia fa parte del gioco come in te ho un'attività iera con doppia indicazione quindi tempi di immersione e secondo fuso orario anche questo un orologio molto preciso movimento stellite sv500 ottimo bracciale molto morbido orologio secondo me bellissimo in 38 mm di diametro cassa secondo me forse il miglior cronografo mi è andato a dire questa cosa il miglior cronografo entry level diciamo dato che l'unica alternativa più o meno a questo probabilmente è l'Hemington Intramatic ma secondo me non c'è paragone a livello di vestibilità al polso adesso faccio vedere l'ultimo orologio cos'è? ovvero un orologio a cui sono molto legato questo è un Citizen al quarzo degli anni 70 che appartiene a mio nonno che nonostante sia ancora in vita ha deciso di regalarmi sapendo che mi stavo interessando appunto sempre di più gli orologi quindi non è propriamente un lascito però mi ha fatto questo dono visto che non lo usava più mi fa veramente impazzire questo orologio molto elegante io gli ho chiamato il cinturino nonostante la sesso originale in pelle di alpaca se non sbaglio qualcosa del genere per non rovinarlo ho messo questo qua in lucertola che secondo me ci sta molto bene però sono un po' un pirla e ho preso il cinturino della misura sbagliata ma ti si vedi c'è un po' di spazio tra cinturino e la fine delle anse comunque nonostante siano in connessione perfette a me questo orologio proprio mi racconta un sacco di cose nonostante appunto le connessioni siano pregente NOS diciamo così niente ti ringrazio appunto per l'attenzione ringrazio anche tutti i follower del canale e probabilmente il mio prossimo acquisto sarà uno speedmaster date in referenza 35 13 30 se non sbaglio oppure un oris big crown pointer date niente ti ringrazio ancora e niente love 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 la scelta tra i due orologi che devi comprare lo speedmaster date lo prendi usato perché sono già parecchi lustriche fuori produzione il big crown invece sarebbe nuovo perché è catalogo ancora adesso ma scegli te sono due orologi completamente differenti che danno differenti sensazioni al polso ma ho come l'idea che ci arriverai da solo a capire quale scegliere perché hai scelto degli orologi in questi tre anni dai 16 ai 19 che ne hai adesso hai scelto degli orologi che secondo me sono tutti validi belle scelte che non possono altro che non è anche strano vedere un ragazzo come te che uno magari inizia o tendi a prendere o tendi a prendere delle cioffecche o delle cioffecate oppure i marchi sui quali va sul sicuro magari un longinculo che ti pare a te invece se ti sei lanciato anche nel microbrand che è Veriwatch che sono fatti bene e nel un marchio minore che è Nivada sul quale hai speso anche dei soldini perché quindi ti do un 7 anche per tutta questa tua capacità di scelta per questo tuo ragionare con la tua testa perché non ho nemmeno visto uno di quelli sì il Morph probabilmente se non mi sbaglio sì c'è il Morph sì il Morph è l'unico che ho recensito di questi se non mi sbaglio quindi pur guardando il mio canale non ti sei nemmeno lasciato influenzare dalle varie orologie che ho proposto a Randa bravo bravo 7 te l'ho dato 7 sì 7 bravo e continua così poi il discorso del Quartz della Citizen tanta roba non è da considerarsi un lascito e meno male cioè cosa c'è di meglio che il nonno ancora in vita che ti regala l'orologio che puoi ancora condividere con lui le emozioni di quell'orologio lì no e quando siete lì a fine pranzo domenicale col bicchierotto di vino sulla tovaglia piena di briciole di pane e tiri fuori l'orologio guardano eh ma lui a quell'orologio lì io ce l'ho preso perché sono andato e te le può ancora raccontare è sempre meglio così piuttosto che un lascito che è ad memoriam di quando lui era in vita meglio così no tanto di guadagnato bravo prossimo video ciao davide ciao allora sono Alessandro da Roma ciao ciao Alessandro ti faccio innanzitutto i complimenti per il canale grazie e poi so che ami le presentazioni veloci quindi andiamo diretti alla mia piccolissima collezione vai vi dico mi sono appassionato negli ultimi tempi da un annetto più o meno agli orologi e e tutto è nato le presentazioni veloci forse non da questi orologi che vi faccio vedere due quarzoni come li chiamiamo a batteria 40 secondi di presentazione hai detto so che ami le presentazioni veloci 40 secondi di presentazione a sparare in insulsità che però mi hanno fatto tornare una passione per gli orologi che avevo tanti anni fa e sono loro è sempre colpa loro bravo io penso che grazie a questi orologi molti sono tornati ad appassionarsi agli orologi è bene riconosciamo c'è poco da dire quarzo esteticamente molto carino giocattolino sinceramente non li metto quasi mai bene spetti i soldi nemmeno al mare perché poi alla fine con il loro cinturino rischiano anche di rovinarsi quindi eccoli qua bravo e poi quell'altro no scusa il mission to the moon perdona mi sono appassionato di musica rock quindi a volte confondo dark side of the moon sony di floyd no c'è anche la e questo è il mission to uranus c'è anche lo speedmaster dark side of the moon forse mi piace più questo qui bianco e celeste che che il classico diciamo dopodiché la passione è andata verso quelli che sono veri e propri orologi bravo e allora te li presento diciamo nell'ordine in cui li ho acquistati infatti ho presupposto che ho un polso abbastanza grande parliamo di un 20 quindi mi piacciono molto al mio polso gli sportivi ok e quindi il primo orologio che ho comprato ma dove li mettete gli orologi è un Zulu Time longino bravo eccolo qui l'ho provato comprato l'anno scorso 42 bellissimo bellissimo veramente non è a batteria ovviamente bravo il movimento vabbè lo sappiamo non è di manifattura però è un orologio veramente ben fatto il quadrante è stupendo gli indici applicati bellissimi funzione GMT vabbè che va perfettamente ma non c'è niente altro da dire e mi piace anche il fatto di questo cinturino bracciale che è piuttosto leggero diciamo per una cassa così grande il cinturino non sembra come ti posso dire grande quanto la cassa quindi importante quanto la cassa dimensionato correttamente per la cassa ti sembra sottodimensionato ma queste sono scelte che fanno le case a volte anche io ho passato magari puntavo il dito sui bracciali sottili però è sottile ma sono scelte perché non è che cambia il costo farle un millimetro di più un millimetro di meno sono scelte per alleggerire sia visivamente che proprio fisicamente l'intero orologio sono scelte infatti ti stai apprezzando questa leggerezza forse volontariamente è fatto più leggero per lasciare più leggerezza all'orologio in generale anche se poi ovviamente è un orologio che pesa e una pecca diciamo che su un orologio così di nuova manifattura forse forse si poteva sistemare un po' meglio questa clip qui che io mi trovo obbligato a regolare tra estate e inverno e ovviamente non è il massimo della regolazione però insomma un orologio molto bello si fa notare da soddisfazioni come si dice dai si guarda il discorso della clasp ingegnerizzata si e tra l'altro ho scoperto a poco che io sono rimasto fregato due volte ho preso lo speedmaster ho preso lo speedmaster con la clasp con i forellini e poi dopo hanno fatto lo speedmaster con la clasp automatica e poi ho preso il legend diver della lungina appunto con i forellini e dopo un po' mi hanno messo fuori il legend diver con la clasp ingegnerizzata con la scorrevole e sono rimasto fregato due volte allora conviene aspettare e pigliare gli ultimi che esco detto questo poi cosa accade accade che quando mi vedo un orologio con i forellini così sulla clasp e mi sale anche un moto di romanticismo mi è salito ultimamente con il longini idroconquest che ho preso del 2014 quando vedi la clasp con i forellini anche se lì sono pochi perché sono tre ma dove i forellini così ti dà un po' quel senso di tradizione poi è chiaro che siamo nel 2024 e io voglio vedere tutta la tecnologia possibile applicata del 2024 quindi una bella claspettina di quelle che si regolano printi 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 no? fa piacere a tutti passo velocemente passo velocemente al successivo che l'ho preso poco dopo perché quella era un GMT ma io volevo un diver sono appassionato di montagna adoro lo sci e quando ho visto questo quadrante ho capito che questo orologio doveva essere mio è il Mont Blanc 1858 l'Iseed Sea questo orologio forse è un po' bistrattato da quello che ho capito sinceramente per me è bellissimo il quadrante è qualcosa di stupendo ora dalle immagini forse non si riesce nemmeno a capire ma è un quadrante fatto con una tecnica antica che si chiama Grat Boisier e è ispirato al Merde Classe che è il mare ghiacciato del Monte Bianco è qualcosa di stupendo ora io sì ti do ragione ma l'unica bellezza di questo orologio è praticamente il quadrante io non ci riuscirei solamente per il quadrante perché il resto è veramente sull'anonimo andante una ghiera proprio di quelle standard lancette ad aga di quelle standard addirittura sono gilt sono dorate mi sembrano dorate gli accenti sono dorati veramente anonimo come orologio non riuscirei a comprare un orologio così un po' privo di personalità poi quel quadrante lì è tutto bianco chiaro vabbè è contento te siamo tutti contentissimi veramente non riesco a farvelo vedere dal vivo è qualcos'altro io l'ho visto tutti i colori e mi è piaciuto questo qui che è un grigiasto quasi bianco so che non è tra i più apprezzati forse funziona un po' di più il quadrante blu il quadrante verde però sinceramente mi piaceva questo e questo mi dava proprio quella sensazione di montagna diciamo che quando vado a sciare questo è l'orologio per lo sciare bravo anche dietro c'è sempre nel fondello questa incisione che ricorda sempre il Merde Glacier Merde Glacier si vede penso di sì e movimento vabbè non è di manifattura però l'orologio è importante funziona bene la ghiera direi che ha il suo funzionamento molto affidabile non torna indietro non ha gioco e il suono è piacevole bravo si ma basta la televisione eccolo qui forse un po' meno preciso del longin diciamo che va facilmente avanti ora non saprei dire quanti secondi avanti al giorno però dopo un po' di tempo ti accorgi che va più veloce del del scorrere reale del tempo al contrario del longin che invece mi sembra molto più preciso e faccio fatica ad accorgermi del ritardo poi ovviamente li metto nella winebox quando non li porto quindi sono sempre operativi quindi riesci a vedere bene che margine di errore se in positivo bravo dopo di che qualche giorno fa è arrivato l'ultimo in collezione quindi siamo già all'ultimo come avevo detto una piccola collezione anzi ti volevo dire che la cosa che mi interessava sapere da te era proprio questa cioè il tuo punto di vista molto schietto e sincero come sempre sull'indirizzo della mia collezione cioè se ti sembra che sia indirizzata bene o se forse si potrebbe fare meglio è un posto che poi i gusti sono personali però un consiglio da un esperto è che esperto è arrivato da pochissimi giorni mi piaceva proprio perché era più piccolo e più delicato e io lo trovo elegante voi direte uno sportivo io lo trovo elegante calma eccolo è il black bay 58 da 39 mm versione blu e questo mi piace questo mi piace mi piace molto il movimento è di manifattura in questo caso ovviamente c'è scritto anche qui dietro nel fondello e è bello è bello il sottile si 58 veramente ben fatto vabbè la ghiera è una soddisfazione unica non so se sono condizionato psicologicamente ma a me sembra fatta meglio del Montblanc che comunque ho fatto bene e questo ve lo faccio vedere al polso così capiamo anche io penso che meno di 39 mm non li possa mettere eccolo qui bellissimo si sta bene ne sono già innamorato detto questo sicuramente il prossimo acquisto che voglio fare è un crono ho gusti un po' alternativi e io sono innamorato del crono master sport della zenith e volevo sapere anche che ne pensavi a livello estetico ovviamente il movimento probabilmente è fuori discussione però ero curioso di sapere il tuo punto di vista a livello estetico ti ringrazio grazie a te in bocca al lupo per tutto ottimo lavoro con il canale e a presto buona giornata a te buona giornata buona giornata fammi un po' rivedere gli orologi che hai perché hai detto che vuoi sapere l'indirizzo della collezione blackbay 50 montblanc zulu time della longin e poi gli svocini all'inizio praticamente c'è il longin zulu time il montblanc e il tudor che direzione puoi prendere qualsiasi direzione sono tre come no se uno ce ne avesse 25 la direzione è segnata da questo percorso e lo vedi dove sta andando con tre puoi prendere qualsiasi direzione e sinceramente ti dico che la direzione l'hai già scelta te perché stai scegliendo di testa tua orologi che ti piacciono e quindi non posso far altro che dirti continua a scegliere di testa tua perché hai scelto lo zulu time da 42 mi sembra il 58 da 39 mm come vedi sei passato ti sta anche bene sul polso anche se ce l'hai grande quindi potevi prendere anche il 41 per esempio del black bay peso 39 ci sta il mont blanc che insomma non è tra quelli più gettonati della community è una scelta particolare che hai voluto fare te quindi il tuo percorso va benissimo poi vuoi prendere ti stavo per dire quando mi hai detto il percorso ti stavo per dire un cronografino magari prendi e ti infatti vuoi prendere il cronografino lo zenith hai detto niente hai detto poco qua si spendono i soldoni crono master sport si va sopra i 10 se non mi sbaglio sopra i 10 mila o siamo intorno lì o magari usato ma si trovano usati te lo appoggio a me non piace nel senso che se io dovessi prendere e quando un giorno lo prenderò perché prima o poi lo prenderò uno zenith al primo cronografo vorrei andare sulla classica la classica cassa da tonda con i quadranti tricolore grigio bianco e grigio scuro quelli lì a 386 quello lì mi piace quello invece quello lì che voi scegliete lo sport ha la ghiera in ceramica un pochino più moderno un pochino l'occhio al design degli cronografi con la lunetta in ceramica però è bello se a te piace prendi quello c'è poco da dire ognuno deve scegliere quello che gli piace il tuo percorso va benissimo così e non ho niente da dirti compresi i due svocini all'inizio ecco magari lì potete risparmiare quei soldi lì e reinvestirli in qualcosa però fanno parte anche quelli del percorso del divertimento cioè come dire che io non posso prendermi un orient come ciò perché magari o l'onjin vintage che prendo perché potresti utilizzare quei soldi per prendere un pezzo grosso ma io voglio prendermi un onjin vintage a 300 euro me lo prendo cioè mi piace quindi stai andando bene non ti preoccupare voto alla collezione 6 e mezzo dai di più non posso darti 6 e mezzo 6 e mezzo dai 6 e mezzo siamo bassi aspettiamo che prendi l'altro pezzo poi magari rivalutiamo e riguardiamo un pochino come va la situazione ragazzi per oggi direi che è tutto qui dallo studio come dicono quelli seri e io devo andare a vedere i gattini su instagram che ultimamente ho scoperto che mi piacciono particolarmente i gattini che giocano con i cani ecco quando sono amici quando sono amici perché poi i gatti la fanno apposta perché loro vogliono conquistare il mondo quindi cercano anche in maniere subdole di farsi amici i cani per poi pugnalarli alla schiena un giorno però al momento quando li vedo che giocano mi mettono allegria mi rallegrano l'animo e mi rendono una persona migliore io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io più spesso possibile qui su youtube love musica musica musica